Io e Aldo abitiamo molto lontani e non riusciamo mai a vederci, però lui mi manda dei bellissimi fiori, guarda! Questa ragazza ha bisogno del dottor Trenamore. Aldo, prendi un treno e vieni ad Amore Binario. Ogni venerdì, Radio 2, 19.45, racconteremo i vostri amori ferroviari. Ma chi è il dottor Trenamore? Sono io. Aldo, tu vieni allo stesso però. Aldo, tu vieni allo stesso tempo.